Benvenuti a Milano e FIFA 2.0 e 16! Ho provato il VR e ho giocato un po' LOL. Per adesso mi è piaciuto tanto Horizon Zero Dawn, un gioco molto bello in uscita l'anno prossimo. Watch Dogs 2, ho giocato al primo e volevo andare a vedere The Last Guardian. La VR e magari qualcos'altro, adesso vedo qualcosa da provare. Sarebbe bello il VR o l'HC Vive? Ho provato il portatile dell'Asus, oggi sto giocando a Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Mi è piaciuto di più Tekken, perché è una serie che ho seguito sin dall'inizio e ci sono un paio di personaggi aggiuntivi abbastanza carini e poi la grafica è migliorata da tanto.